In partenza per Pesaro e Catania mi bevo un caffè, sempre che a sinistra qualcuno non si offenda. Inizia con un tweet alle 10.30 di questa mattina con l'ormai inseparabile giubbotto della Polizia di Stato prima di imbarcarsi sull'aereo che lo porterà a Pesaro per presiedere il Comitato di Sicurezza in Prefettura. La lunga giornata di Matteo Salvini, Vicepremiere e Ministro dell'Interno. Un botto è risposta a distanza con il PD ed il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che lo avevano criticato per il suo pane Nutella sul terrazzo di casa. Il Ministro arriva con un'ora di ritardo all'appuntamento col prefetto e i vertici delle forze dell'ordine a causa della nebbia e dopo un primo bagno di folla al quale non si sottrae, gli lascia subito una prima dichiarazione alla stampa prima di salire in Prefettura. Cercheremo sempre di essere ancora più attenti, poi questo signore ovviamente a cui va un pensiero, una preghiera ha chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non funzionate però sono qua a testimoniare il fatto che le marche e i marchigiani sono più forti di qualsiasi infiltrazione criminale. Stiamo attenti, staremo attenti, stiamo sequestrando e confiscando beni e mafiosi però sono orgoglioso del lavoro che le forze dell'ordine fanno in questa splendida regione che non si merita di essere accostata a certi fenomeni. Pesaro saprà reagire a questo attacco violento, i marchigiani hanno una marcia in più rispetto ad altri contesti su queste cose del resto tutti i dati in positivo sulla criminalità che verranno presto divulgati in questo territorio dimostrano un tessuto sociale sano. Il ministro dell'interno dopo 35 minuti di comitato rilascia rassicuranti dichiarazioni nella conseguente conferenza stampa conto che possa essere reso noto il prima possibile il perché e il come sia stato possibile tutto questo. Vediamo che cosa non ha funzionato però sono qui a testimoniare che le marche ed i marchigiani sono più forti di qualsiasi infiltrazione criminale. Stiamo attenti e staremo attenti, continua il vicepremie. Poi lascia la prefettura non prima di aver incontrato i vertici della Lega Locale ed un ulteriore bagno di folla fuori dal palazzo prima di partire alla volta della Sicilia ferita dal sismo.